Canali senza acqua con i disagi che ne conseguono, visto anche le alte temperature di questi giorni, forti odori e il proliferare di insetti. Il centro di Treviso da settimane sta facendo i conti con questa situazione. Casugana, dalla sua, sta monitorando il problema per cercarne le cause, visto poi che a nord il livello dei corsi d'acqua risulta normale. Noi siamo in costante contatto con il consorzio di bonifica che ci ha garantito che i flusci dei fiumi sono regolari nella zona nord della provincia. Colpa di un aumento di consumi per irrigare i campi, visto il caldo tropicale? No, perché stanno i dati sui prelievi la situazione nella media della stagione. Ecco che allora spunta un'altra ipotesi per spiegare questa carenza e che andrà naturalmente verificata, ovvero potrebbe esserci qualcuno che in modo abusivo sarebbe prelevando l'acqua. Non andare a prelevare l'acqua in modo non autorizzato per evitare che ci siano ripercussioni e disagi in città. Il sindaco Conte lancia un appello nel caso vi sia la necessità di una quantità maggiore di acqua. Prego tutti di rivolgersi al consorzio in modo tale che possa essere regolamentata e non creare disagi al centro storico.